Completati i lavori del depuratore di Campo San Piero che ora può servire con più efficienza il territorio con una spesa di 4 milioni in due anni e mezzo è trepassata da una potenzialità di 35 mila abitanti a una doppia di 70 mila abitanti equivalenti con due nuove vasche e una serie di innovazioni tecnologiche i fanghi e altri rifiuti organici vengono depurati e viene prodotta energia utilizzata dallo stesso impianto con vantaggi concreti anche per i cittadini maggiore attenzione all'ambiente, maggiore attenzione anche ai criteri, alle modalità di vita dei nostri abitanti, del nostro territorio il nuovo impianto ha anche un sistema di sollevamento di emergenza in caso di eventi meteorologici eccezionali e con un canale di circa un chilometro collegato direttamente al Muson dei Sassi evitando così lo scarico in laguna come richiesto dalle ultime normative le acque fognarie vengono trattate e ripulite con la tecnologia più recente pochi gli impianti del genere in Italia questo trattamento che è quello invece di ossidazione dove c'è molto ossidio vedete queste bolle che crescono, che salgono e qui ci sono dei batteri che deteriorano la sostanza organica per arrivare poi al risultato finale che è l'acqua che vedete voi alle vostre spalle che è quasi un'acqua, cioè è limpidissima, quasi un'acqua da bere un impianto che porta vantaggi e sicurezza a tutta la popolazione della zona abbiamo la garanzia che sui nostri corsi d'acqua arrivi qualcosa di depurato poi il vantaggio è quello che Etra sta investendo sulle reti di fognatura